La richiesta di analisi tecnica ed eventuale dismissione della rete senza fili a San Giovanni arriva in Consiglio Comunale. A far propria la protesta di alcuni cittadini già attivata nei giorni scorsi è la lista per un'altra San Giovanni, che presenterà dunque una mozione in merito nella seduta prevista per il 31 gennaio prossimo. Abbiamo ricevuto una lettera, come tutti i consiglieri e anche il sindaco, di verifica di questo sistema Wi-Fi. La rappresentante di questo gruppo di persone mi ha incontrato, abbiamo chiacchierato, abbiamo discusso un po' della problematica e a questo punto noi ci riteniamo così in dovere di dover presentare questa interpellanza, anche se dal punto di vista strettamente tecnico la potenza di queste linee Wi-Fi, queste antenne sono nettamente inferiori ai nostri telefoni cellulari. Quindi sì, c'è una certa preoccupazione, però insomma è bene anche verificare. E' più una richiesta di forte chiarimento alla maggioranza? Sì, è una richiesta di forte chiarimento anche perché diciamo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità valuta nel 3% della popolazione, soprattutto nei bambini, nei giovani, nei ragazzi, ha un tipo di problema sulla salute dovuto a emicranie, mancanza di sonno, stress, ansia eccetera. Emicranie, mancanza di sonno, stress, ansia eccetera. Quindi ci sembra doveroso chiedere e fare le verifiche anche agli enti preposti. Io ho parlato anche con il responsabile dell'Unità di Chimica e Fisica dell'ARPAT di Arezzo, la quale farà delle verifiche, adesso si metterà d'accordo con il Consiglio e con l'amministrazione comunale e vedremo un po' cosa ne verrà fuori.